Bentornati in Criacenti Voice, oggi siamo qui con i film consigliati del mese diciamo 2021. Partiamo subito con un film che esce domani, 2 dicembre abbiamo Cry Macho, un film, il nuovo film di Clint Eastwood dove fa regia e attore protagonista. Abbiamo Mike Milow, eccolo qua, ex stella del rodeo e allevatori di cavalli in declino, accetta l'incarico di un ex boss di riportare il suo figlio a casa dal Messico in Texas. L'improvera 2 affronterà un difficile viaggio dove Mike, ormai stanco di tutto, troverà dei legami imprevisti oltre a un senso di riscatto. Questo film al 3000 per 1000 usciva la recessione sul canale anche perché io Clint Eastwood adoro, ma chi non lo adora. Allora, è un po' l'unione tra Gran Torino e The Mule, ecco, un po' per intenderci. Sempre il 2 dicembre, sempre lo stesso giorno, abbiamo Caro Evan Hansen per la regia di Steven Chosby con Ben Platt, Giulie Moore e Annie Adams. Abbiamo, eccolo qua, Hansen che è un liceare che soffre di un disturbo d'ansia sociale che lo porta ad avere difficoltà a scuola. Dopo il suicidio di un compagno di classe, inizierà il suo personale viaggio alla scoperta di sé e all'accettazione del tutto. Attenzione, cosa molto importante, è un musical. È un musical, quindi, ma non lo sapevo. Adesso lo sapete. Ha un assoluto, due ore 20 o qualcosa. Sappiate che è un musical, quindi a cazzo di cane si comincerà a cantare. L'8 dicembre abbiamo Nowhere Special, la regia di Umberto Pasolini con Chris Corrigan. In questo film abbiamo John, che è un lavavente di 35 anni, che vive da solo col figlio Michael da quando la moglie lo ha abbandonato dopo la nascita, appunto, del bambino. Dopo aver appreso di essere affetto da una malattia terminale e di avere solo pochi mesi di vita, John inizia la ricerca di nuovi genitori che si assicurino a Michael un futuro sereno dopo la sua morte. Ragazzi, portatevi questo pacco di fazzoletti da 80, perché qua ci sarà da piangere all'inesima potenza. Settimana dopo, 15 dicembre, lo sapete tutti cosa, esce Spider-Man No Way Home, per la regia di John Watts con Tom Holland, Alfred Molina, William Defoe, Zendaya, Jamie Foxx, Melissa Tomei e tanti tanti altri. Dopo gli avvenimenti di Spider-Man Far From Home, Spider-Man non è più in grado di separare la sua vita normale da quella rischiosa da supereroe. Quando chiede aiuto a Doctor Strange per usare un incantesimo per far dimenticare a tutti che Peter Parker e Spider-Man, l'incantesimo non va a buon fine e Spider-Man si trova a dover affrontare nemici provenienti da molti universi. Sappiamo che ci saranno i tre Spider-Man, ormai sappiamo tutto. Qua trovate le due, tre le reaction dedicate a Spider-Man No Way Home. E vabbè, Spider-Man No Way Home è il blockbuster del mese. Mi sentirei quasi ti dire il blockbuster dell'anno. Il giorno dopo, 16 dicembre, nonostante in alcuni cinema ci sia l'anteprima, il giorno di Spider-Man No Way Home, comunque 16 dicembre, House of Gucci, per la regia di Ridley Scott, con Jared Leto, Adam Diver, Lady Gaga, Al Pacino e Salma Hayek. Mamma mia che crasta! Si repercore la storia dove nel 1995 Patrizia Reggiani fu la mandante dell'omicidio di Maurizio Gucci, suo marito, nonché imprenditore e presidente della casa di moda Gucci. Qua è molto semplice, semplicemente perché si parla di un fatto realmente accaduto, quindi la trama è il fatto veramente accaduto. Molto, molto, molto curioso, sicuramente uscirà la recensione. 16 dicembre, Diabolic, per la regia dei fratelli Manetti, con Luca Marinelli, Miriam Leone, Claudio Givini e Valerio Mastandrea. Mastandrea, scusate. Si chiama Clavin negli anni 60. Diabolic è un ladro privo di scrupoli, imprendibile dalla polizia. Nel frattempo però incitava il valet di Kente, che porta con sé un diamante rosa di inestimabile valore, ma che coglie l'attenzione di Diabolic, che però si innamora perdutamente di Eva Kente, che lo renderà più vulnerabile per la cattura dell'ispettore Ginko e della sua squadra. Un film italiano dove tanti hanno gli occhi puntati, perché dopo Freaks Out, dopo Gig Robbo, sembra che veramente il cinema italiano si stia spostando veramente verso uno scenario più bello, se vogliamo. Anche in questo mese c'è un cinepanettone, dopo avevamo quelle marche di fabbrica, però sempre, sempre meno. E sempre meno pubblicizzate, soprattutto. Io il trailer di Diabolic l'ho visto così tante volte al cinema e ve lo potrei intuppiare. 23 dicembre, settimana dopo, esce West Side Story. Per la regia di Steven Spielberg è il remake del musical che racconta un amore osteggiato tra due membri di gang rivali a New York, i Jets e i Sharks. Famosissimo West Side Story. È un musical anche questo. Sempre il 23 dicembre esce Sing 2. Questo mese si canta un sacco Sing 2, sempre più forte. Abbiamo Buster Moon, i suoi amici, devono convincere la solitaria rock star Clay Calloway a unirsi a loro per inaugurare un nuovo show. Eccoci qua. L'ho consigliato perché io Sing 1 l'ho visto e mi ha particolarmente preso, quindi ho voluto consigliare anche Sing 2. Allora, in più, attenzione, questa è un'aggiunta molto importante, vi dico un'aggiunta importante perché non esce al cinema, ma uscirà la recensione comunque. Il 24 dicembre, la vigilia di Natale, uscirà Don't Look Up, il nuovo film di Adam McKay con Jennifer Lawrence, Leonardo DiCaprio, Meryl Streep, Kate Blanchett, Jonah Hill, Timothy Chalamet, Ron Perlman e tanti tanti altri. E abbiamo questi due astrologi, ovviamente Jennifer Lawrence e Leonardo DiCaprio, che devono avvisare, devono fare una campagna mediatica per avvisare il mondo che c'è una cometa che sta per colpire di stare già piena da trara. Forse è quasi curioso che è uno dei tre film che mi interessa di più di tutto il mese di... di dicembre, cioè se si fa ridere perché non esce al cinema, è un film che poteva benissimo uscire al cinema, però... Allora, in questo mese abbiamo un super blockbuster che è Spider-Man No Way Home, abbiamo tre musical, il vero caro Evan Hansen, Sing 2 e West Side Story, beh, in tale musical è clamoroso questa cosa. Tre film drammatici, due più uno, perché uno dei tre film drammatici è anche un musical. Zero horror, non c'è neanche un horror in questo mese qua, e non è che mi dispiaci più di tanto perché i momenti di horror crescono... e poi vabbè, c'è Osoguchi e Diaboli che sono a sé stante. Questi sono i film consigliati da me del mese di dicembre. C'è tanta 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 roba, secondo me, eh? Soprattutto, proprio a metà mese, c'è quello che spaccava il mondo, ovvero Spider-Man No Way Home. Scrivete nei commenti cosa non è mai sentito di questi film, se vi piacciono, se non vi piacciono, se vi invogliono, se non mi invogliono, cosa andrete a vedere, cosa non andrete a vedere, facciamo Facebook, perfilo Instagram, iscrivetevi al canale, mettete un bel mi piace, ci vediamo nella prossima puntata con i Santi Boyz e il Natale è alle porte, entrate uno, diventa. We got, we got, we got the power. Come on. We got, we got, we got the power.